Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al concetto appuntamento con il TG10. L'apertura del nostro telegiornale oggi è dedicata all'attentato incendiario ai danni di un immobile di proprietà della famiglia del sindaco di Licata, Angelo Cambiano, la cui amministrazione in particolare è caratterizzata tra le altre questioni dall'impegno al contrasto dell'abusivismo edilizio. All'indomani del gravissimo fatto di cronaca il ministro Angelino Alfano si è recato personalmente a Licata e adesso propone la scorta per il primo cittadino. Sentiamo l'approfondimento a cura della nostra redazione di Licata. 25 sindaci hanno accolto il ministro dell'interno Angelino Alfano nella sua visita a Licata per portare la solidarietà dello Stato al primo cittadino Angelo Cambiano colpito da un atto ingendiario subito dalla villetta del padre in contrada stretto. Lo Stato c'è, è forte, fa rispettare le proprie regole. Abbiamo avuto proteste perché una squadra composta dalla Procura della Repubblica, dal Comune di Licata, composta dalla Prefettura di Agrigento ha semplicemente preteso che delle sentenze fossero eseguite. Noi siamo qui a dire che le sentenze si rispettano e si eseguono e siamo qui a ribadire una cosa molto importante e cioè che per il futuro se non avvengono queste demolizioni ci saranno altre case abusive e che è finito il tempo della politica che coccolava gli abusivi per avere qualche migliaio di voti. Oggi è giunto il tempo della politica e delle istituzioni che fanno rispettare le leggi puntando al consenso democratico di tutti quei cittadini e sono la stragrande maggioranza che onestamente per fare una casa chiedono il permesso. È importante non lasciare solo il primo cittadino? Proporrò per il sindaco adesso agli organismi tecnici una scorta alla sua persona e anche una vigilanza ai luoghi della sua vita perché la scelta di amministrare una città non significa fare la scelta dell'eroismo e quindi la paura è un sentimento naturale e lo Stato deve intervenire per sottrarre paura a chi ce l'ha avendo avuto il consenso del popolo per governare una terra splendida e difficile come questa. Il ministro del sindaco ha detto di essere sempre completamente abbandonato dalla politica e la paura invece condurava e non aveva qualche senso tanto lo Stato. Io sono molto lieto e fiero del riconoscimento del sindaco nei nostri confronti. Io sono accanto a tutti gli amministratori di qualunque colore politico si pongano dalla parte della legge e per il porsi dalla parte della legge corrono dei rischi personali. Lo sono stato in altre zone d'Italia, lo sono qui e oggi è il tempo di una voce con un tono più alto. Tutti dobbiamo pronunziare parole chiare e anche la politica locale lo deve fare. Io inviterò tutte le forze politiche, anche l'icatesi, a schierarsi attorno al sindaco che altro non ha fatto che firmare un protocollo con la Procura della Repubblica sotto anche l'ausilio e la vigilanza della Prefettura di Agrigento per realizzare queste demolizioni. Ma la notizia, parlo a dei giornalisti, è che mentre noi siamo qui, proprio mentre noi siamo qui, le demolizioni proseguono e un'altra casa abusiva è stata proprio adesso abbattuta. Noi abbiamo puntato tutto sulla legalità e sul rispetto delle regole perché non fare rispettare le regole oggi significa incentivare il mancato rispetto delle regole domani e dunque noi stiamo lavorando esattamente su questo. È evidente che occorrerà studiare tutti i modi perché i nostri comuni siano dotati delle risorse finanziarie per poter procedere. L'attentato incendiario alla famiglia del sindaco di Licata è un'offesa lancinante a tutti gli amministratori pubblici di un paese che si professa civile. Lo ha detto il sindaco di Gela, Domenico Messinese, commentando l'atto intimidatorio subito dal primo cittadino di Licata, Angelo Cambiano. Esprimo sdegno per le codardie perpetrate, ha continuato Messinese, auspico che le forze dell'ordine possano individuare e assicurare alla giustizia gli autori di simili barbarie. Porgo la mia solidarietà è quella del comune di Gela ad Angelo Cambiano, ha concluso affinché senta la vicinanza di quegli amministratori che in prima linea lavorano per il rispetto dei principi dello Stato. E anche il presidente della regione siciliana, Rosario Crocette, esprime la propria solidarietà nei confronti del sindaco di Licata, Angelo Cambiano, per l'attentato intimidatorio avvenuto nei suoi confronti a Licata. Registriamo una situazione esplosiva, dice il presidente, per effetto delle demolizioni di abitazioni abusive, situazione che rischia di far pagare al primo cittadino responsabilità che non ha. Non è Cambiano che ha le responsabilità dei provvedimenti contro l'abusimismo a Licata e non è accettabile questa cieca e razionale reazione nei suoi confronti. Un amministratore rispetta le leggi. Resta grave la preoccupazione per la situazione che si può determinare per l'ordine pubblico in un quadro legislativo che in apto non consente di fare altrimenti. Nessuno pensi di costringere con questi gesti il sindaco a fare atti che non può compiere, poiché conclude il presidente. Come ho già detto, un amministratore ha il dovere di rispettare le leggi e le ordinanze della magistratura. Cambiamo argomento. Il porto rifugio di Gela resterà insabbiato ancora per diversi mesi. E' quanto emerso da una riunione che si è svolta a Palermo. Sentiamo. Vertice a Palermo presso la sede regionale della protezione civile per discutere degli attavici problemi legati alla fruibilità del porto rifugio di Gela. I soggetti coinvolti adesso sperano che al più presto gli interventi strutturali possano essere cantierabili. Si è discusso delle problematiche del porto, che ormai sono in dirittura del rivo completamente, il porto è completamente chiuso, bloccato. E' emerso che ieri la protezione civile ha presentato un progetto, diciamo, definitivo per l'escavo e l'allungamento del braccio del porto, di 120 metri. Il problema adesso nasce nel reperire le somme per quanto riguarda estrapolare questa cifra di 5 milioni e 800 mila euro dal protocollo d'indesa del 6 novembre fra Eni e Regione. Speriamo che il Presidente della Regione si mobiliti nel più breve dei tempi possibili a far sì che si reperiscano queste somme per poter iniziare a mandare in gara d'appalto il progetto di ieri. Il direttore Foti della protezione civile ha detto chiaramente che non ci sarà una ruspa o una draga prima di sei mesi circa. Quindi questi saranno per me e anche per loro i tempi perché il tempo che il tutto si reperiscano le somme, il tutto vada in gara, non saranno meno di sei mesi. Quindi a questo ci dobbiamo, come dire, rassegnare. Ci vorranno ancora mesi prima di poter cominciare ad agire concretamente per risolvere il problema dell'insabbiamento. Tempo prezioso che acquisce la crisi delle attività che insistono nell'area portuale gelese. Il problema è dei pescatori e degli operatori marittimi che ovviamente giornalmente dovranno uscire per andare a lavorare e quindi sono impossibilitati a fare la loro vita quotidiana di lavoro perché non possono uscire dall'imboccatura. Ovviamente nella riunione anche il Comandante della Capitineria ha presentato una relazione dove ha relazionato il peggioramento dello stato dei fondali. Tutta la responsabilità, come ha detto il dirigente Foti e della Regione Sicilia, in persona del Presidente Crogetta, perché deve convocare l'ultima riunione per cercare di decretare i fondi delle compensazioni. Sarà presto varato a Gela un regolamento comunale per disciplinare l'uso e la destinazione delle risorse economiche generate da estrazione petrolifera. Ad occuparsene sarà la terza commissione bilancio e programmazione presieduta da Salvatore Scerra e composta da Romina Morselli, Enzo Cirignotta, Sandra Bennici e Simone Morgana. Sentiamo. La commissione bilancio che lei presiede, Salvatore Scerra, si dovrà occupare dell'assesura di un regolamento comunale per disciplinare l'uso e la destinazione delle risorse economiche che sono generate dall'estrazione petrolifera nel territorio di Gela. Quali saranno le linee guida che terrete presenti per stilare queste regole? Sì, inizieremo l'iter per regolamentarne l'uso, garantendo i criteri di legittimità, legalità e soprattutto trasparenza. La commissione ha il compito di comunicare con la città e quindi informare la città come sono state spese prima queste somme e soprattutto come verranno spese e la qualità della spesa. Avete già presente ben chiaro il quadro relativo al passato o dovrà essere avviato intanto uno studio di approfondimento su ciò che è stato per poi capire come bisognerà orientarsi per il futuro? Diciamo che ho dato un'occhiata a dei regolamenti che già sono vigenti in altre città. Comunque avvieremo la prima consultazione con l'amministrazione comunale per capire come sono state spese in passato, quindi incontreremo pure il dirigente De Petro e poi inizieremo la discussione con la cittadinanza. Per avviare questo iter che sembra essere abbastanza complesso, chiedete la collaborazione di tutte le parti politiche. Sì, infatti questa è una priorità che abbiamo discusso in commissione. Abbiamo detto che oltre a sentire la parte politica presente nei gruppi consigliari, sentiremo pure quelli extra consigliari, quindi tutte le forze politiche presenti in città, ma soprattutto la società civile che in questo momento soffre di questa grande crisi economica e quindi cercare di capire come è meglio far sviluppare queste somme delle royalties. Secondo lei quali sarebbero le priorità da affrontare, cioè queste somme come andrebbero diligentemente impegnate nell'immediatezza? A parte già c'è una normativa regionale che è l'irregolamento e noi possiamo comunque scendere nei dettagli ed essere più precisi, ma la commissione bilancio da me preseduta innanzitutto vuole intervenire sulla riqualificazione urbana e servizi sociali soprattutto, perché diciamo che c'è una grande carenza di somme per cercare di coprire tutte le esigenze dei servizi sociali e soprattutto le grandi opere che mancano in questa città. Che fine farà la vicenda legata al passaggio di Gela nell'area metropolitana di Catania? La volontà popolare era stata chiara, adesso non rimane che capire quale sia quella politica. Ne abbiamo parlato con il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Sentiamo. Parliamo di liberi consorsi, che fine farà Gela? Verrà trasferita, finalmente entrerà a far parte della città metropolitana di Catania o no? Guardate, questo decide il Parlamento. Noi la legge l'abbiamo fatta, la prima è stata approvata, abbiamo riconosciuto la validità del referendum di Gela come governo, abbiamo presentato la legge all'Ars, al Parlamento siciliano, però lì decidono i 90 deputati. Il governo, la giunta regionale ha approvato, non so come finirà in Parlamento sinceramente, ma di questo non posso decidere io. Vuole condividere con noi il suo punto di vista, cosa desidererebbe lei? Io desidererei che Gela cominciasse a lavorare per diventare essa capoluogo di un libero consorzio, poi la Vicenta è chiaro, va rispettato comunque adesso il referendum che ha previsto il passaggio all'area catanese, però ripeto, cominciamo a lavorare per fare Gela capoluogo. Si è svolto oggi presso la Casa Circondariale di Gela il primo incontro di un progetto della durata di un mese promosso dall'Associazione Culturale Gli Amici di Antifemo ed Entimo, presieduto da Francesco Città e volto alla promozione del patrimonio gastronomico gelese presso gli ospiti della Casa Circondariale di Gela. Gli incontri prevedono oltre alla discussione teorica di ricette e abitudini alimentari, anche la parte pratica, con il coinvolgimento diretto nella preparazione di cibi tipici dei detenuti. Saranno coinvolti gli chef locali Totò Catania, Gianni Cravana e Francesco Ciaramella. Premiazione del concorso fotografico Le Dune Gelesi, indetto dal suo Optimist Club di Gela, si terrà domani alle 17.30 presso l'Istituto Scolastico Luigi Capuana in Via Palazzi. Interverranno il sindaco Domenico Messinese e l'assessore comunale Francesco Salinito, Laura Carullo dell'Università degli Studi di Catania, Emilio Giudice, direttore della Riserva Naturale del Bivere di Gela e Francesco Vacirca, presidente dell'Associazione Leopoldia, agricoltura, biodiversità e rigenerazione del territorio. E si terrà domani alle 19 presso i locali del Museo archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra, Piume, baciatemi la guancia ardente. Porteranno il saluto della città natale di Salvatore Damaggio, le autorità cittadine, i presidenti delle associazioni Rotary Club, FIDAPA, Lions Club del Golfo, Kivanis, Proloco Gela, Archeoclub, Lega Navale. Piume, baciatemi la guancia ardente, un romanzo storico e biografico, liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio, tenente, bersagliere, mitragliere, gelese, protagonista indiscusso della Grande Guerra. Il libro ha ottenuto il logo ufficiale per il centenario della Prima Guerra Mondiale, concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio di Ministri e anche il patrocinio morale dell'Associazione Nazionale del Fante. Continuano le iniziative inserite nel calendario La Primavera dell'Arte, giunta alla quarta edizione, promosse dal gruppo archeologico d'Italia Geloi, Trischelion, in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Venerdì 13 maggio alle 19, nei locali del Museo, è prevista una mostra archeologica con reperti inediti. Domenica 15 maggio alle 9.30, ai Bagni Greci, si terrà l'iniziativa Archeologia ritrovata, valorizzazione e cura del patrimonio archeologico gelese. Sabato 21 maggio alle 21, alle Mura Timoleontè, chiusura con la Notte Europea dei Musei, le Mura di Notte. Si svolgerà domenica, dalle 16 alle 20, l'iniziativa promossa dall'Archeoclub di Gela, Invadiamo la Torre di Manfria. Guidati dai soci dell'Archeoclub, i partecipanti potranno gustare la storia e le leggende che riguardano la spettacolare torre di avvistamento e segnalazione, cui lavori iniziarono nel 1549 e furono completati nel 1615. È stata una delle torri costiere più importanti della Sicilia. Per partecipare e informarsi ci sono anche dei numeri di telefono 349 26 98 140 oppure 349 29 14 597. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Riconversione della produzione nell'area industriale di Gela e nuove prospettive di sviluppo con sistemi e materiali innovativi a basso impatto ambientale. Sono gli obiettivi dell'assessorato regionale e alle attività produttive. Abbiamo sentito l'assessore competente. È in corso la riconversione in Green Rife Aneri. Qual è il suo punto di vista, ma soprattutto a che punto stanno i lavori? Secondo Eni i lavori stanno temporalmente in quel cronoprogramma che loro avevano previsto. Per la verità noi crediamo invece che ci sia un qualche ritardo che bisogna recuperare al più presto. Da un lato le autorizzazioni che sempre vengano prese, quasi ad esempio di un ritardo che invece secondo noi è anche più complessivo. Per cui stiamo attenzionando il cronoprogramma. Io alla fine di questo incontro passerò dalla prefettura di Caltanissetta perché dobbiamo fare il punto. Il punto sostanzialmente significa farlo su tre cose. Primo, gli investimenti di Eni, a che punto sono e per quali interventi. Secondo, la call che è stata fatta rispetto all'azienda e che devo trovare l'insediamento, da una iniziale richiesta di una sola azienda sembra che oggi siamo arrivati a dieci. Vogliamo capire se sono dieci concrete proposte. La terza questione che credo che sia un po' più generale è quella che riguarda i lavoratori, non certamente dell'Eni perché come sapete nessun lavoratore dell'Eni è in mobilità o in sofferenza dal punto di vista della cassa integrazione, ma c'è un indotto che soffre e che in questo senso deve trovare risposta. Noi come regione abbiamo deciso di utilizzare quel 5% dei fonti complessivi legati alla cassa, di utilizzarli per le aree di crisi complesse che sono Gela e che termini merese. Per quanto riguarda poi il patto per il sud, 140 milioni di euro saranno destinate alle due aree di crisi di Gela e di termini merese, che non significa guardare all'Eni, significa invece al contrario guardare alla città, che ha dato un grande contributo investendo in esigenze che la città ha. Stiamo recuperando alcuni edifici, abbiamo intenzione di finanziare la realizzazione di alcune opere, prestissimo, noi dovremmo firmare il patto per il sud della prossima settimana e dopodiché immediatamente partire. Quindi Eni non può essere semplicemente il grande sogno e la trasformazione, per tornare alla sua domanda, abbiamo come regione siciliana investito nei terreni dell'Esa la coltivazione del guaiule, che deve essere uno dei prodotti straordinari di Gela, nel senso che questa gomma biologica che deriverà dal guaiule sarà uno dei prodotti che diventeranno da una sorta di eccellenza ad una vera e concreta e concreto recupero di quello che è la nuova visione dell'Eni. Insomma, noi vogliamo lavoro che non debba coniugarsi mai più con l'inquinamento. Sarà celebrata il 15 maggio la giornata internazionale della famiglia, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La celebrazione riflette l'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia, intesa come unità fondamentale della società. Anche a Gela sarà celebrata la festa con un convegno che, previsto per sabato 14 maggio, dal titolo Famiglia diventa ciò che sei. Nella Casa della Misericordia saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, Rita Morelli, psicoterapeuta della famiglia e Francesco Pira, sociologo. Nel corso del convegno saranno premiati gli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole elementari della città che hanno partecipato al concorso Parlaci della tua famiglia. L'Associazione Orizzonte Gela ha conquistato all'Aquila la medaglia d'oro allo Specials Basket del Centro Sud. La compagine gelese vincente è composta dagli atleti Salvatore Morello, Mario Pizzardi, Armando Sciascia, Francesco Mammano, Graziano Bennici, Mario Palmeri, Emanuele Barone, Salvatore Capizzello e Nuccio Samà. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Natale Salucci. Lo ha intervistato per noi Giuseppe Donchia. Sentiamo. Natale Salucci è ancora una volta all'Orizzonte Gela, conquista un podio importante, conquista il primo posto all'Aquila. Questa è dimostrazione del fatto che ogni volta l'Orizzonte Gela va in altri siti, in altri lidi, porta sempre una medaglia importantissima. Una medaglia importante per il gioco che hanno fatto i ragazzi. La conquista, la grinta che hanno messo, è il gioco brillante, ma soprattutto la tattica che hanno applicato. Durante i quattro tempi abbiamo modificato per esigenze proprio dell'avversario, che cambiavano continuamente il modulo di gioco. e noi abbiamo cambiato diverse volte, i ragazzi hanno, alla lettera, seguito questi cambiamenti, portando alla fine un successo veramente veritato. Avete arricchito così il vostro già ricco palmarès. Sì, questo ormai per noi non è più un problema di medaglie di primo o secondo posto e cos'è. Per noi è importante migliorare gli aspetti, diciamo, sportivi che portano a un arricchimento a livello intellettivo. I ragazzi, da questo punto di vista, soprattutto in gioco di squadra, è importante la relazione che si sviluppa tra gli atleti e durante il gioco, ma soprattutto dopo e prima. Noi abbiamo fatto una trasferta con 16 ore di viaggio all'andata e 16 ore di viaggio al ritorno. E quindi durante il viaggio si creano quelle relazioni e quelle possibilità interattive che portano a migliorare non solo in ambito sportivo, ma anche in ambito familiare, nella vita sociale. Per cui è importante non tanto la medaglia, ma queste esperienze che fanno i ragazzi. Unica notità dolente è riconducibile al fatto che voi il prossimo mese dovreste partecipare ad un'altra iniziativa, ad un'altra tappa, che però non potete affrontare per mancanza di soldi. Se vogliamo lanciamo anche un appello a chi ci ascolta, se può darvi una mano. L'appello che vorrei lanciare all'istituzione è dare la possibilità dopo 20 anni di avere dei locali che l'associazione penso possa meritare e con i quali possa sviluppare nuovi programmi per i ragazzi per continuare queste battaglie culturali che hanno portato ai ragazzi a migliorarsi notevolmente. Io ritengo che questi cambiamenti, questi miglioramenti non sono solo relative al soggetto, alla famiglia, ma anche alla società. Siamo allo spettacolo, appuntamento col teatro all'antidoto a Macchitella a Gela, sabato 21 maggio alle 21. Sarà proposto, attenti a quei due, con Emanuele Giammusso, Guglielmo Greco e L'Oriardore. Le proiezioni cinematografiche invece sono state sospese e riprenderanno a settembre. Non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che Canale 10 è dotato di un altro strumento, cioè il televideo, che è sempre aggiornato. Grazie a tutti e arrivederci.